Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Libri in Provetta. Come al solito parliamo di il sistema periodico di Primo Levi, analizzandone ogni capitolo da cima a fondo da un punto di vista prettamente chimico. Allora, l'altra volta abbiamo visto Piombo, il primo racconto di fantasia presente nel sistema periodico, gli altri che avevamo visto sono tutti autobiografici. Oggi vediamo il secondo racconto di fantasia, Mercurio, sempre scritto durante il periodo in cui Primo Levi lavorava alla miniera di Amianto. Allora, come diceva appunto anche questo secondo racconto, Mercurio è un racconto di fantasia, ambientata nell'isola di Desolazione, un nome, un programma. I protagonisti sono Maggie e soprattutto il caporale Abrams, che è un caporale dell'esercito inglese, che si ritrova in quest'isola immaginaria, che dovrebbe essere in teoria vicino all'isola di Sant'Elena. Infatti il caporale, insieme alla moglie, insieme ad altri soldati inglesi, era stato mandato in quest'isola perché c'era Napoleone e Sant'Elena e lui doveva badare bene che nessuno andasse a salvare Napoleone e cercasse poi rifugio in quell'isola. Ovviamente una volta morto Napoleone tutto il suo reggimento viene smantellato, per cui tutti i soldati che stanno con lui ritornano in patria. Lui insieme alla moglie invece decide beatamente di rimanere con i suoi maiali a godersi della natura, visto che in Inghilterra lo aspettavano i creditori. Per cui inizia a vivere, insieme alla moglie, questa vita un po' bucolica in quest'isola, un'isola abbastanza piccola ma che comunque gli forniva bene o male tutto quello che avevano bisogno. Quindi avevano il cibo, uova di gabbiani, foche, avevano i maiali che ovviamente uccidevano e ci facevano il bacon e così via. Avevano una casa, avevano tutto quello che gli poteva servire. Inoltre ogni tanto passava dall'isola una nave, una nave mercantile che gli riforniva di altro cibo e in cambio prendeva quel poco che riuscivano a produrre, quindi quel po' di bacon o altre cose che produceva l'isola. In realtà ben presto la comunità si allarga. Si allarga perché? Perché arrivano sull'isola due naufragi italiani e soprattutto due, chiamiamoli così, fuggitivi, di cui uno si scoprirà poi essere un alchimista olandese. In quest'isola, ben detto sperduta, ci sono però dei luoghi un po' particolari, quindi c'è una scogliera in cui hanno costruito una specie di faro, chiamiamola così, e soprattutto c'è una grotta. Una grotta in cui Maggie, la moglie di Abrams, il protagonista, va spesso perché per qualche motivo la reputa sacra. Dice che in questa grotta sente delle voci, sente dei suoni e che Maggie è convinta che prima o poi in questa grotta sentirà il futuro, quindi queste voci le spiegheranno quale sarà il futuro non soltanto della sua famiglia ma anche dell'isola e alla fine ovviamente di tutto il mondo. In realtà uno di questi sbarcati, di questi profughi per così dire, anche lui in fuga dai debiti e in fuga soprattutto dagli olandesi che lo vorrebbero appendere per averli truffati, Maggie e questo naufrago stringono un'amicizia abbastanza insolita. Perché? Perché Maggie da una parte si sta facendo prendere un po' da questo spiritismo, dal fatto di questa grotta in cui sente le voci, e al tempo stesso invece questo naufrago si scoperà poi di essere un alchimista, quindi anche lui tutto immerso nei simboli, nelle procedure alchemiche e così via. A giunto punto quest'isola, che sembra appunto deserta, un'isola normale come tutte le altre, si scopre invece essere un'isola vulcanica, per cui il vulcano fa il suo lavoro, fuoco, fiamme, per fortuna non disturba in realtà i nostri naufraghi, i nostri eroi solitari, ma comunque c'è un'eruzione, c'è una collata lavica che distrugge una parte dell'isola comunque, quindi ricopre una parte dell'isola. Proprio la parte in cui c'è questa grotta. A questo punto allora i nostri eroi decidono di andare a vedere cosa è successo in questa grotta, e lì avviene il miracolo. Da questa grotta comincia a liberarsi Mercurio, una marea di Mercurio. Loro in realtà lo raccontano come una specie di pioggia d'argento, quindi loro arrivano in questa grotta per vedere cosa è successo e la trovano con tutte queste pozze di Mercurio che cade dai tetti. Ovviamente all'inizio il caporale e gli altri naufraghi rimangono un po' così, nel senso ovviamente sai, Mercurio non sapevano che cosa fosse. Invece l'alchimista e la moglie, che nel frattempo avevano avuto modo di fare lunghe passeggiate, di discutere di misticismo e di alchimia, ovviamente al settimo cielo sono contentissimi, e subito l'alchimista comincia a progettare degli esperimenti, ovviamente per tramutare Mercurio in oro. Infatti si scopre che l'alchimista è scappato, perché ha cercato di convincere gli olandesi che era capace di trasformare la sabbia in oro. Ovviamente non ci è riuscito e quindi lo volevano impiccare. La cosa interessante è che questo Mercurio in realtà poi rappresenta un po' una salvezza. Perché? Perché quando ci sono cinque uomini ed una donna bloccati in un'isola deserta, c'è la possibilità che nasca qualche piccola, piccola tensione. Di natura che è bene non specificare, visto che potremmo essere in fascia protetta. Di conseguenza, dato che ci sono delle tensioni da sfogare, e dato che la donna è una sola ed è sposata, sebbene nel racconto si faccia capire che forse non sia molto fedele al marito, è necessario trovare qualche altro naufrago, possibilmente di sesso femminile. Dato che non se ne trovano, le donne non crescono sotto i cavoli, è necessario in qualche modo importarle. Solamente che, ovviamente, non è che ci siano molte donne disposte a sposare dei naufraghi e a trasferirsi in un'isola deserta. E quindi è necessario comprare, in un certo senso, queste donne. Ovviamente lo so che, insomma, per noi che viviamo nel mondo di oggi, una cosa del genere sembra veramente, veramente orrenda. Però dovete mettervi nei panni degli uomini di metà ottocento, insomma, nel periodo napoleonico, no? Per cui, cosa fanno con questo mercurio? Cominciano a raccoglierlo, lo distillano per purificarlo, dopodiché lo vendono al capitano di questo mercantile, in modo che lo vendono, lo scambiano, diciamo, con delle donne. Per cui questo capitano gli porta delle donne, loro spostano le donne, così, in maniera molto casuale, nel senso che, ovviamente, praticamente, il capitano butta le donne al mare, le donne arrivano a nuoto sull'isola. Uno dei tanti, appunto, il capitano Abrams, semplicemente dice, ok, tu sei sposata con lui, tu sei sposata con lui, tu sei sposata con lui, siamo tutti sposati. E, in tutto questo, Ambaradan, ovviamente, quello che fa è lui mettersi con una donna più giovane e lasciare la moglie con l'alchimista, visto che, appunto, moglie alchimista avevano, insomma, un certo feeling, insomma, una cosa un po' particolare. Comunque, finita questa parte di puro racconto, che chimica c'è qui? Ovviamente, il protagonista è il mercurio. Come ce lo descrivono? Allora, ci viene detto che è veramente una sostanza bizzarra, è freddo e fuggitivo, sempre inquieto, ma quando è ben fermo ci si specchia, meglio che in uno specchio. Se lo si fa girare in una scodella, continua a girare per quasi mezz'ora. Non soltanto ci rallegge sopra il crocifisso sacrilego di Hendrick, che è l'alchimista, ma anche i sassi e perfino il piombo. Loro no. Maggie ha provato con il suo anello, ma è subito andato al fondo, e quando l'abbiamo riprescato, era diventato di stagno. Insomma, è una materia che non mi piace, e avevo fretta di concludere l'affare e liberarmene. Allora, cerchiamo quindi un pochino di spiegare queste proprietà, e di spiegare anche un'altra cosa, il fatto che all'interno di questa grotta Maggie avesse queste allucinazioni, allucinazioni uditive. Allora, intanto il mercurio. Il mercurio è un metallo, ed è l'unico metallo che è liquido a temperatura ambiente. In realtà anche il gallio diventa liquido a temperatura quasi ambiente, diciamo a circa 37 gradi, più o meno la temperatura del corpo. Però, normalmente con temperatura ambiente si considerano i 25 gradi. Per cui possiamo dire che il mercurio è l'unico metallo liquido a temperatura ambiente. Perché è liquido? Allora, come sapete, il fatto che una sostanza si trovi nello stato solido, nello stato liquido, o nello stato gassoso, dipende dalle forze intermolecolari tra gli atomi o le molecole che la compongono. NaCl, cloro di sodio, è un solido. Perché? Perché abbiamo uno ione sodio, Na+, carico positivamente, e uno ione cloro, Cl-, carico negativamente, più e meno, ho una bellissima forza elettrostatica, che è molto, molto forte. La forza elettrostatica è una forza abbastanza importante e di conseguenza è abbastanza forte da tenere bloccati insieme gli ioni, il sodio e il cloro, il cloruro, in posizioni ben definite. Quindi NaCl è un solido. Lo stesso vale per la maggior parte dei metalli. Nel due parte dei metalli abbiamo, normalmente, dei nuclei e poi abbiamo degli elettroni che circolano attorno a questi nuclei, ma circolano nel senso in tutto il metallo. Voi dovete immaginare un metallo come formato da dei sassi, che sono i nuclei, immersi in un mare di elettroni. Cioè, gli elettroni non appartengono più a un atomo o all'altro, né sono condivisi tra un atomo e l'altro. Sono in comune tra tutti gli atomi che compongono il metallo. Ok? In realtà, per il Mercurio, questo è un po' diverso. Perché? Il Mercurio ha una configurazione elettronica un po' particolare. Ora, magari non siete tutti quanti molto ferrati sulla struttura atomica. Limitiamoci a dire che dobbiamo considerare un atomo formato da un nucleo e elettroni che ci girano intorno, ma questi elettroni non girano intorno a caso, ma si trovano in, chiamiamoli così, dei gusci energetici, chiamiamole orbite. Non sono orbite, ovviamente, perché nella meccanica quantistica non ci sono orbite, ci sono orbitali, però immaginateveli in questo modo, un po' l'immagine classica dell'atomo planetario, nucleo al centro e elettroni che girano. Quando queste orbite sono complete, cioè contengono il massimo numero di elettroni che possono contenere, quell'elemento è particolarmente stabile. Per esempio, i gas nobili, come l'elio, il neon o l'argon, hanno appunto questa caratteristica, hanno il guscio elettronico completo. Di conseguenza, sono stabili e tendono a non reagire con gli altri. L'elio esiste come elio monatomico, mentre l'ossigeno, per esempio, è O2, l'azoto è N2. Nel caso del mercurio, abbiamo tre gusci energetici, chiamiamoli S, D e P. Due sono pieni, l'S e il D, mentre il P è completamente vuoto. Di conseguenza, dato che questi due sono pieni, e considerando anche degli altri effetti più importanti, che sono gli effetti relativistici, otteniamo che il mercurio tende a rimanere come atomo isolato. Cioè, non tende più a mettere in comune gli elettroni con tutti gli altri atomi di mercurio, ma tende a tenerseli belli stretti. Di conseguenza, stato liquido, perché le forze intermolevolari, quindi le forze tra un atomo e l'altro, in questo caso, sono forze abbastanza deboli. In realtà dovrei chiamarle in questo caso forze interatomiche, perché non sono molecole di mercurio, però, insomma, le forze tra le particelle. E questo ti spiega il fatto che il mercurio sia un liquido. Ma, in realtà, il mercurio ha anche un'altra caratteristica, quello di essere, appunto, molto volatile, sempre perché, detto, queste forze sono deboli. Ora, in realtà, il mercurio liquido, in sé, non è particolarmente tossico. Se bevete, se prendete un bicchiere, lo riempite di mercurio e ve lo bevete, non fatelo, eh! Io ve lo dico, ma vi consiglio di non tentare. In realtà, probabilmente, il mercurio, come vi entra, vi esce. Anzi, addirittura nel Medioevo, veniva utilizzato quando c'erano delle ostruzioni intestinali. Perché? Perché il mercurio, come vedremo più avanti, è molto, molto, molto pesante e quindi spingeva e faceva uscire quello che si era bloccato. Il mercurio, essendo, diciamo, apolare, ora, questo termine, forse, non ce l'avevi tutti molto chiaro, ma, insomma, diciamo, semplicemente, che tende a non essere assorbito facilmente quando è all'ossuto liquido. Ok? Il mercurio puro all'ossuto liquido non viene assorbito dalla pelle e, anche se viene ingerito, non va in circolo. Ok? Semplicemente fa la sua strada come se fosse un normalissimo cibo molto pesante. La tossicità del mercurio è, invece, legata ai suoi sali, sia inorganici che, soprattutto, quelli organici, ma, soprattutto, ai suoi vapori. I vapori di mercurio sono veramente, 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 veramente tossici. In particolare, danno una marea di problemi neurologici, quindi vanno direttamente poi a intaccare il cervello. Perché? Perché possono superare la barriera ematoencefalica, cioè quella membrana che, in un certo senso, protegge il cervello da tutta una serie di sostanze nocive. Il mercurio riesce a superarla, così come l'alcol etilico, per esempio, e va a danneggiare direttamente il cervello. Di conseguenza, l'avvalenamento del mercurio, normalmente, comincia a portare allucinazioni, uditive, visive, tremori, e tutta una serie di sintomi neurologici. Probabilmente sapete che il cappellaio matto di Alice nel Pezzo delle Meraviglie è matto per il mercurio. Infatti, un tempo per fare i cappelli si utilizzava il mercurio per lavorare le pelli con cui venivano fatti i cappelli. Per cui, molti cappellai erano effettivamente matti. Nel senso che questa esposizione continua al mercurio, diciamo, ai saldi di mercurio, con i trattamenti che venivano effettuati, portava allo sviluppo di piccole quantità di vapori, che ovviamente poi, man mano che, sai, un giorno dopo l'altro, anche se erano piccole quantità, portavano poi a danni, insomma, danni abbastanza importanti. Quindi, se in questa grotta c'era effettivamente presente tutto questo mercurio liquido nelle pareti, anche se in quel momento era coperto, diciamo, anche se ancora non era visibile, probabilmente tutti questi vapori potrebbero essere una spiegazione per le allucinazioni della nostra Meghi. Ci ho detto, continuiamo a parlare delle altre caratteristiche del mercurio. Allora, abbiamo detto, è freddo e fuggitivo. Perché è freddo? Perché è un eccellente conduttore del calore. Ok? In conseguenza appare sempre freddo. Perché? Perché anche quando lo toccate assorbe tutto il calore che avete nelle mani, per cui lo sentite freddo. Un altro materiale che ha caratteristiche simili per esempio è il diamante. Un diamante vero si riconosce subito proprio perché è freddo, gelido. Anche se lo riscaldate, dopo 30 secondi è di nuovo gelido. Proprio perché può cedere il calore così, come se niente fosse. È uno dei metodi anche per determinare se è una pietra. è davvero un diamante o no. Quindi femminucce, se volete sapere se il vostro fidanzato vi ha regalato veramente un diamante, basta che date un bacino al vostro anello e sentite voi le labbra se è veramente freddo o no. Ovviamente non è un metodo infallibile. Ci sono, se uno vuole effettivamente produrre un diamante falso, può farlo, cioè, ci sono metodi più sofisticati per poi andare a riconoscere se è veramente un diamante vero o falso. Ma per riconoscere un diamante da uno zircone qualsiasi si fa tranquillamente. Poi, è fuggitivo. Che vuol dire fuggitivo? Allora, immaginate di mettere una goccia d'acqua su un tavolo o a terra o sulla superficie. Cosa succede? Succede che l'acqua per quanto sia tende a bagnare la superficie. Il Mercurio invece no. Ok? Il Mercurio è diciamo tutto condensato in un certo senso. Ha una tensione superficiale molto alta, cioè le forze all'interno del liquido sono molto alte, non abbastanza alte da renderlo solido, ma più forti che nell'acqua. Di conseguenza cosa succede? Succede che il Mercurio non tende a spalmarsi sulla superficie, ma tende a formare delle goccioline che poi scappano da tutte le parti perché fanno anche pochissimo attrito. Per cui basta veramente un niente e va ovunque. Io ho avuto modo di vederlo perché ora non più, ora si sta cercando di ridurlo, ma il Mercurio in passato, fino a qualche anno fa, veniva utilizzato molto spesso nei laboratori di chimica per delle trappole da vuoto. Ok, ora vabbè, senza andare a spiegare cosa sono. Diciamo che c'erano delle grosse bocce di Mercurio sotto ogni K che erano collegate a un sistema di pompe e se uno non stava attento rischiava di far saltare fuori tutto questo Mercurio e far andare in giro per il laboratorio. Io ho assistito a una di queste cose quando in realtà non uno studente ma un assistente di laboratorio ha sbagliato e ha fatto saltare il Mercurio giù sul pavimento. Noi in realtà eravamo tutti preoccupatissimi però la professoressa in realtà che era insomma era una donna veramente particolare una donna geniale veramente geniale ma anche molto molto dura non dura di carattere però sapete una di quelle che prendeva l'acido sulforico e lo faceva girare nel becherino così senza curarsi oppure dovevamo controllare che ne so se l'acqua era calda e lei toccava sì questa è a 70 gradi questa è a 80 gradi comunque per capire il personaggio questa qua si è messa col fazzoletto a raccogliere a mani nude tutto il Mercurio che era finito a terra ovviamente come vi ho detto prima in realtà il Mercurio elementare non è tossico quindi non è che abbia corso tutti questi rischi il problema principale sta appunto nell'inalazione ok inalare i vapori fa male il Mercurio in sé no comunque vi dicevo quindi questo ci spiega perché il Mercurio è così freddo e soprattutto perché è così sfuggente un'altra particolarità interessante del Mercurio è il suo peso in realtà non è il metallo più pesante ce ne sono di più pesanti di più densi come l'osmio però insomma anche il Mercurio non scherza ha una densità di ben 5,43 grammi centimetro cubo che vuol dire vuol dire che in pratica un litro di Mercurio pesa 5 chili 430 grammi ok metto un litro d'acqua pesa un chilo quindi diciamo che il Mercurio pesa circa 5 volte e mezzo più dell'acqua dov'è la particolarità la particolarità è che se voi vedete un cubo di metallo vi aspettate che sia pesante invece il Mercurio è liquido per cui uno non ci pensa io mi ricordo la prima volta appunto c'era in questo laboratorio avevamo una beuta sotto una cappa piena di Mercurio che andrà appunto utilizzato poi eventualmente per riempire le trappole e io così senza pensare ci ricordo che ero andato a prendere questa beuta come se fosse piena d'acqua una beuta è un contenitore di forma triangolare in cui si mettono dei liquidi ero andato a prenderla e cioè sul momento non ero riuscito a sollevarla poi per carità ovviamente la beuta c'era circa mezzo litro quindi non è che pesava 2,5 kg o 3 kg non è che fosse pesantissima però sul momento ero andato a sollevarla così pensando sai non ci pensi e mi ricordo sono rimasto un po' così tipo cosa c'è qua è incollata invece no era solo pesante il mercurio è molto 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 pesante e loro appunto loro ne parlano in questo perché poi questo mercurio loro lo devono vendere lo devono vendere abbiamo detto a questo mercante che ogni tanto passa da quest'isola quindi per consegnare il mercurio al mercante loro producono dei varattoli chiamali così di terracotta all'interno dei quali mettono il mercurio ovviamente hanno il vantaggio che gli basta un barattolo da un litro per metterci 5 kg di mercurio 5 kg e mezzo di mercurio un bel vantaggio direi no? perché non si possono usare i metalli per conservare il mercurio? perché molti metalli formano delle leghe delle amalgame come si dice con il mercurio il mercurio scioglie un sacco di metalli in particolare l'oro le amalgame di oro e mercurio sono tra le più famose se voi mettete un oggetto d'oro nel mercurio quello si scioglie come se mettessete il sale in acqua infatti quando loro mettono l'anello nel mercurio e poi tentano di recuperarlo in realtà non ottengono più l'anello di prima ma loro dicono si è trasformato in stagno ovviamente non è stagno è un'amalgama di mercurio in realtà probabilmente non succedono nemmeno a recuperarlo ma evidentemente sono stati molto veloci nel riprenderlo e grigio appunto perché è un'amalgama la cosa interessante è che poi queste amalgame possono essere purificate molto facilmente basta riscaldare e il mercurio va via infatti come vi dicevo il mercurio che l'oro estrangono è impuro quindi va purificato per distillazione basta riscaldarlo lui passa in fase vapore ricondensa quindi poi da una parte vedete il mercurio sporco evapora condensa e cade in un altro recipiente pulito in cui si raccoglie il mercurio puro e nell'altro recipiente di partenza poi rimangono tutti i residui degli altri metalli che il mercurio verrà sciolto in realtà il mercurio non si trova facilmente come mercurio elementare è abbastanza raro normalmente si trova come cinnabro che è un minerale di sulfuro di mercurio quindi HGS in cui il mercurio è legato all'ozolfo in realtà legato a questa proprietà del mercurio c'è anche il fatto che sul mercurio galleggia il piombo o galleggiano i sassi vi ricordate il principio di Archimede un corpo immerso in un liquido è soggetto ad una forza di direzione uguale e contraria pari al peso dell'acqua spostata diciamo al peso del liquido spostato ora ovviamente che vuol dire che se io metto un peso di un chilo in acqua questo peso per galleggiare deve ricevere una forza di un chilo e per ricevere una forza di un chilo deve spostare un litro d'acqua dato che un litro d'acqua pesa un chilo ovviamente nel caso del mercurio la cosa è diversa perché perché se io metto un oggetto che pesa un chilo non ho più bisogno che sposti un litro d'acqua cioè un litro di mercurio ma basta che ne sposti all'incirca 180 millilitri ok perché perché devo moltiplicare poi per 5 dato che la densità è 5,43 ok di conseguenza ovviamente piombo ma anche altri materiali più più leggeri meno densi rispetto al mercurio tendono a galleggiarci anche se normalmente in acqua andrebbero a picco come nulla va bene io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi noi ci rivediamo non il prossimo mercoledì ma tra due mercoledì la prossima settimana prendo di pausa perché devo registrare il video per metamorfosi se non vi ricordate cos'è metamorfosi cattivoni correte subito a vedere il video di introduzione al progetto che trovate giù in descrizione quindi vi ringrazio noi ci vediamo la prossima volta con Fosforo ritorniamo di nuovo ai racconti autobiografici niente più racconti di fantasia per ora vi ringrazio e alla prossima ciao